Bilò, può essere contento di questo 3-3? Ma oggi, a dire il vero, la vedo come un'occasione mancata, perché il primo tempo, al di là dello svantaggio iniziale, la squadra, secondo me, ha dominato la partita. Ha avuto delle chance anche per arrotondare il vantaggio, esprimendo un buon calcio, mettendo in difficoltà una squadra molto forte, molto organizzata. Poi abbiamo concesso, purtroppo, 5-6 minuti iniziali di approccio, anche nella ripresa. Il gol ha minato un po' le nostre certezze. Poi, sul 2-3 c'è stata un'ulteriore reazione. Gli ultimi 10 minuti, sicuramente, con un po' più di qualità, potevamo anche portarla a casa. Nonostante i tre gol del primo tempo, tre gol però scaturiti da disattenzioni, tutti e tre, se possiamo dire così, disattenzioni un po' difensive. Sì, noi abbiamo sbagliato una lettura su una palla libera. Secondo me, potevamo leggere meglio la situazione. Poi, sì, il nostro gol del pareggio su una disattenzione molto simile. Poi, però, secondo me, la squadra ha creato molto. Quindi, al di là del vantaggio del primo tempo, potevamo arrotondare e paradossalmente chiuderla nel primo tempo. Poi, non buono l'approccio. Però l'avete ripresa e questo è importante, no? Sì, sì, la squadra ha dimostrato di reagire entrambe le volte al cospetto di un avversario forte, quotato. Quindi, sicuramente, vista anche la nostra posizione di classifica, è un segnale molto importante. A proposito della classifica, chiaramente non cambia tantissimo la vostra classifica, però adesso avete uno scontro diretto davvero a Sora e lì sarà importante sicuramente non perdere, ma anche provare a vincere. Sì, da qui alla sosta ci aspettano tre partite, che sono tre scontri diretti. La classifica dice questo. E' chiaro che ora dobbiamo continuare a concentrarci sulle nostre protezioni, migliorare di volta in volta, come abbiamo fatto da un mese a questa parte. E poi è chiaro che una squadra che deve salvarsi, una partita del genere non può concedere determinati gol, determinati episodi, perché poi rischiamo di pagarli su lungo periodo. E' arrivato dopo i giorni il nuovo acquisto dalla Civitanovese Spagna, subito in gol. Bene così, no? Sì, al di là del gol ha fornito una prestazione importante, attaccando molto bene la profondità, mettendo sempre in difficoltà, insomma, la retroguarda del Chieti, buona intesa con D'Angelo, sull'occupazione degli spazi, è un ragazzo che sicuramente ci darà una grossa mano. Un'ultima cosa, il calcio di rigore, anche dalla tribuna, qui tutti pensavano che lo tirasse D'Angelo. Invece lo ha tirato un altro calciatore, adesso Alfieri, però è stato molto bravo, no? Come mai? È stata una scelta dei giocatori? Sono i due rigoristi assegnati della squadra, quindi in quel momento Vincenzo Alfieri si sentiva... Forse perché aveva già segnato D'Angelo. Non lo so, non lo so da cos'è di peso la scelta, però sono due ottimi tiratori, quindi ero in buone mani.